Una rete dei professionisti che possono aiutare le aziende a navigare meglio in questi mari piuttosto tempestosi degli ultimi anni. Partner 24 Ore è stata un'esperienza sicuramente molto interessante, sono già tre anni e come azienda siamo in Partner 24 Ore. È l'occasione sicuramente per conoscere sia da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista umano molte persone che collaborano con questo social e soprattutto per scoprire nuove opportunità di incontro con i professionisti e con le aziende. Se non avessi fatto parte di solo 24 Ore Network sicuramente non avrei potuto conoscere tanti altri imprenditori che come me insomma sono impegnati oggi come oggi in una sfida difficile per portare avanti un'azienda e soprattutto anche una rete dei professionisti che possono aiutare le aziende a navigare meglio in questi mari piuttosto tempestosi degli ultimi anni. Lo consiglierei sicuramente perché è un'esperienza sicuramente fondamentale, a mio avviso tutte le esperienze che contaminano le persone oggi come oggi sono importantissime, di fatto viviamo ormai in un villaggio globale. La mia società fa parte di una rete di aziende, di cui io sono il presidente, che si occupa in questo momento di energia rinnovabile. Quindi all'interno abbiamo società di professionisti, società di fornitori di servizi, aziende che producono i materiali. Quindi è un continuo contaminarsi.